Ciao a tutti, Gian Bellucci Gruppi Bay, oggi con noi abbiamo una Pavoni e vi faremo vedere come si fa a fare un buon caffè espresso. Per fare un buon caffè espresso c'è bisogno di un buon macinacaffè che vi macini in modo molto fine il caffè. Ora riempiamo il filtrino. Va pressato per bene con il pressino. Ora, una volta che avete il braccio pronto e la macchina è già in pressione, cosa dovete fare? Dovete, per avere un ottimo espresso, fare passare l'acqua attraverso il gruppo in modo tale che si scaldi. Quindi solleviamo la meva e facciamo uscire un po' di acqua. La manovra la ripetiamo due volte. E ora anche il gruppo è bello caldo e pronto. Il filtrino l'abbiamo già preparato, è già pieno. Inseriamo sotto la macchina. Si solleva, l'acqua si carica nel gruppo, arriva fino al filtrino e si preme. Come potete vedere è venuto un caffè molto cremoso e espresso. A presto. Ora. A presto. A presto. Grazie.